quest'anno ragazzi la caccia alle uova kinder è all'aperto noi siamo proprio qua giusto io devo andare dai baffi ma ti vendiamo nella corona prendiamo la mappa vai strappiamola e portiamola con noi quindi dovete stare attenti mentre pedalate se trovate questi due simboli in giro vediamo gli occhi aperti e tuoi occhi vatti aperti un baffo e una corona via a caccia eccoli sono proprio lì questa la corona e questi sono i baffi e qua sotto ci sono le uova la punza e aurora le principesse io so già chi vuole trovare nicolò esatto perché nicolò gioca sempre con gli occhi vediamo chi troviamo guardate cosa vi ho preparato la tovaglia dell'unboxing vai apriamo sulla tovaglia cosa ci serve mati eccole quale tagliuzziamo di qua tagliuzziamo anche di qua e uovo di qua e uovo di qua apertura di coppia vai vai con i pugnetti prima sorpresona seconda brava mai vediamo e si assaggia subito grande hai trovato proprio gli occhi il tuo super preferito ecco ci sono anche i turbo ma un kart gigante ed è anche funzionante mentre qui cosa avete trovato una conchiglia chiamati vestita con l'abito da sera ci sono anche gli sticker che nicolò dove sei eccolo sta già appiccicando questo invece un porta gioie non c'è solo aria c'è anche una conchiglia che funziona la porta gioie ecco le istruzioni mai assaggiato la cioccolata buona ragazza anche la saldo ragazzi confermo e buona male buona molto buona bene che eleganza di aria il qualche bel vestito ha riflessi perlati anche e questo guardate ragazzi ma devo assaggiare ma il porta gioie con stella marina su conchiglia innestiamo il turbo poi assembliamo i due pezzi consiglio prima di attaccare davanti e poi dietro ecco la macchina di io ma è bellissima sgommiamo via dobbiamo andare qua riprendiamo la bicicletta si parte hai visto qualcosa matti ma non ancora niente andiamo avanti una zampa dove dove laggiù se c'è una zampa c'è anche la cucinella si matti e ci sono le uova sì ci sono eccole qua un patrol lady bug anche a me piace il camembert andiamo a sforbiciare prima uno e poi l'altro vai vedere muscoletti matti grandissima vai nicolò e qui all'interno che è chase ci pensa chase a recuperare la cioccolata ma sei stata fortunatissima hai trovato è lady bug e chat noir c'è anche il cartellino di papillon c'è anche papillon lo sconfiggiamo c'è anche il bastone sì dai c'è anche il suo yoyo che gira gira velocissimo e poi far finta di colpire papillon dai che bello ehi ma chase è senza testa non capisco come si fa abbiamo un'occhiata alle istruzioni può muovere si può muovere la testa di chase ma così non si può staccare neanche così così sì io intanto sto verificando se anche queste uova sono buone 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 zainetto con accessori sono i classici dei chase abbiamo la torcia e da questa parte abbiamo il megafono è sempre un momento cioccolatoso per un cucciolo assaggioso e coraggioso ragazzi anche quella di adventure bay è molto buona papillon voleva cummizzare le uova di pasqua e metterci dentro del camembert scaduto sì era proprio questo il mio piano malvagio ma lady bug che vuole salvare la pasqua vede papillon e gli lancia il suo yoyo adesso andiamo bisogna andare nel coro giallo e il pastello rosso andiamo alla prossima tappa dai che ce la facciamo parte Nicolò parte Matilde vedi qualcosa Nicolò sì giù la bici andiamo i cartellini sono qua controlliamo e le uova sono queste le uova dei Minions ecco la macchia gialla spiegata e questo no quest'anno c'è anche l'uovo Crayola io mi sono già messa a comodo brava Ale ecco che arrivano le uova muscoletti vai un nuovo qui Matti è durissimo brava dai che ce la fai sì chi hai trovato un Minion un Minion nella borsa nella borsa no allo zaino tu Matti che l'hai trovato? ho trovato quello verde sono proprio i personaggi Crayola e com'è la cioccolata pennarella? buona ho trovato tutto è molto nata credo che tu Nicolò abbia trovato Stuart che fa da porta penne con lo zaino? sì lo sto montando e Mati ha già aperto i pennarelli e dopo si può anche scannerizzare con l'applicazione cioè non solo colorare come sta facendo Mati vediamo ah si scarica l'app Magic Kinder beh noi ce l'abbiamo si può inquadrare colorare e poi i disegni colorati prendono vita e il Minion è pronto sento che qualcuno sta assaggiando cioccolata poverino farà una fatica incredibile a portare le pese dai ce ce la fai piccolino ho portato il tablet ragazzi così lo possiamo subito provare andiamo a scegliere il pappagallo schiacciamo lo scanner e andiamo a inquadrare il disegno ma ragazzi non vediamo attivarsi niente forse potrebbe essere un problema di luce qua all'aperto l'abbiamo provata all'interno e funziona ragazzi e funziona ragazzi come vedete registra la nostra voce e poi la ripete in elefantese lo facciamo sparire così basta mettere quindi la carta lui compare faccio scomparire la carta e lui appare e ora troviamo la caccia dell'uova queste qua abbiamo già fatto adesso fiocco di neve e maschera Yoshi è impaziente andiamo a caccia del fiocco di neve e della maschera si riparte cerchiamo dei fiocchi di neve in primavera fermiamo la bici controlliamo bene ho visto qualcosa hai visto qualcosa andiamo a vedere andiamo un fiocco di neve e una mascherina le uova dove sono? guardati bene in giro eccole brava Iron Man Iron Man Frozen Frozen ci sono Anna e Elsa e qua ci sono gli Avengers che righe da me come sempre che righe questo? eh ragazzi questo è Maxi pugno di Iron Man vai Elsa Thor con il suo martello spacca uova di Pasqua e qui Matti cosa hai trovato? quante cose c'è Anna sembra un set da scrivania no? un portapenne portamatite qui possiamo conservare i nostri messaggi segreti e poi c'è Anna che pattina con la gonna si Thor invece che Niccolò ha già montato non distrugge uova di Pasqua ma un super lanciatore che può lanciare un disco degli Avengers all'occhi questi sono i bigliettini questi sono i bigliettini per scrivere con Olaf ah lei ha già costruito tutta la base quasi quasi sto vestendo Anna gonna mantello eccola qua e lì c'è qualcuno che ha già assemblato un lanciatore ma un lanciatore di cioccolato? mi piacerebbe un sacco ma veramente lui lancia così si mette il disco arriva non arriva ah è arrivato tocco finale manca lo sticker sulla borsa poi attacchiamo la borsa qui sono usciti i biglietti di Olaf rimassiamoli in ordine qui c'è spazio per la penna e sul cuore qui dietro? c'è posto per Thor il suo lanciatore c'è posto per Thor fermati Thor arriva Anna pattinando non leggere i miei messaggi segreti prendi questa Matti è già pronta adesso bisogna andare oh la la sei dinosauri un dinosauro una bacchetta magica ripendiamo le biciclette occhio a dinosauri Matti eh siamo scesi in salita è faticosa hai visto un dinosauro Nicolò? no niente che ci siano dinosauri qua nella foresta ehi ma c'è qualcosa qui la bacchetta è una bacchetta e qua ci sono le uova Jurassic World e per Matti ci sono le Winx le Winx sono Maxi e Jurassic World? Maxi e Maxi anche blu ma lo mangia così il dinosauro? ma lo mangia così il dinosauro? perché mangia lui le uova vai apriamolo questo è molto duro si è aperto l'ho visto eccolo dove è la sorpresa? forma di uovo è forma di uovo di dinosauro e qui che avete trovato un personaggio Winx eh mi sa di sì che bella treccia lunga 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 abbiamo trovato Flora è proprio lei Matti sta già montando la doll che ha anche i pantaloni eccoli qua le alette la cioccolata è mia è mia è molto buona forza Nicolò vola vola Winx intanto vola la Winx anche lei è curiosa di sapere cosa c'è qua dentro forza dai che ce la facciamo assieme tira sì è un triceratopo potrebbe essere sì sì è proprio lui c'è una base anche e questa è l'istruzione di montaggio si scannerizza anche lui si scannerizza nell'app il simbolo c'è un codice da inquadrare e prende vita no guarda le corna sono glow in the dark anche il muso brilla al buio e mentre qua si monta il dinosauro qua si continua a vestire la nostra Winx mettiamo le alette e la nostra Winx è pronta a volare fa la giravolta fa la giravolta eccola qua che brava guarda c'è un pezzo di cioccolato fossile lo devo assolutamente assaggiare è pronto il triceratopo Nicolò tra poco che lo scandalizziamo vai ci siamo quasi mettiamo il triceratopo sulla sua base zampe anteriori posteriori ci siamo e la base è fondamentale per entrare nell'app andiamo a sbloccare il triceratopo inquadrando il codice presente sulla base ecco che l'ha preso ragazzi e ora parte la sfida dobbiamo toccare l'elemento corretto possiamo farlo direttamente in realtà aumentata sul nostro tavolo di gioco oppure possiamo farlo all'interno di un ambiente virtuale alla fine mi sono conquistato il diploma esperto di dinosauri di Jurassic World e anche con le Winx funziona allo stesso modo andiamo ad inquadrare lo sticker eccolo che l'ha riconosciuto e si crea la nostra area di gioco e anche qui dobbiamo andare a toccare l'elemento corretto e questa è la versione non realtà aumentata si avanza di livello in livello rispondendo alla domanda corretta e ora voliamo alla caccia ci aspetta la prossima tappa dove sta andando Yoshi? la tartaruga e la macchia di rosa macchia rosa torniamo alle biciclette vai si vola e si pedala Nicolò hai visto una tartaruga? no spingiamo la bici in salita hai visto qualcosa Winx? controlla si una macchia rosa e una tartaruga ci siamo cercate ecco visto sono due uova è di Barbie tartaruga ninja tartaruga ninja com'è quest'uovo Mati? è gigante è gigante è bello vediamo quanto è grande ah occhio recuperiamo vai distrutto è tutto rosa tutto rosa Mati Mati ha già aperto forza Nicolò forza del ninja qua avete già aperto ma siete velocissime che avete trovato? ah ma è Barbie ma non c'è solo lei c'è anche una sua amica fatemi controllare avete trovato due personaggi Mati ha già montato i capelli le gambe e nel frattempo ha già una cioccolata allora mi piace la sua amica perché ha coloro rosa perché ha la base rosa l'amica di Barbie eccola qua e Barbie invece ha la base verde e qua c'è anche un braccialetto un braccialetto vediamo wow ecco qua ma va che bello nell'app c'è anche la sezione di Barbie con cui possiamo trasformarci schiacciamo il veterinario e aprendo la bocca Mati è diventata una veterinaria si sei una star del cinema si e possiamo fotografarci e vediamo Mati wow che star e con Mati Chef torniamo alla caccia ma si sta prendendo vai che si apre si ce l'abbiamo fatta quello rosso si chiama Raffaello Raffaello si chiama lo montiamo e dopo diventa un ninja lanciatore di tombini aspetta che ti serve il corpo e il guscio serve a bloccare il personaggio e fare anche tim tim vai qua c'è il buco apposta per fare così tim 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 forza vai col tombino il tombino del ninja spara tombini ci vuole anche la base si perché se no non si muove e si lancia addosso al tombino si lancia anche lui assieme al tombino tombino in posizione vai no si è sparato lui no vai Raffaello riproviamoci si è arrivato fino a qui guidati da Yoshi è arrivato il momento ragazzi di scegliere la sorpresa preferita del giorno Matti la tua preferita qual è? Flora la Wings Ariel e Anna e anche Anna che qua giù in fondo sta pattinando e sto attenta che Thor non mi prende i bigliettini aspetta peccato mi ero nascosto così bene eccomi non mi ha visto presi torna qui Thor guarda che è stato Barbie ma no ci avevano invitato qui per una festa non sappiamo niente Thor sei sempre il solito hai rimesso a posto i miei bigliettini? si ma ma non sono bigliettini quelli è un tombino fermi tutti a tutti piacciono i tombini e Nicolò amico dei tombini a te cosa è piaciuto? il tombino il lanciatore di tombini Yoshi Yoshi il tuo preferito di Mario Kart Chanoir Chanoir Lady Bar Lady Bug il Dino Bomb il Dinosauro a chi è piaciuto la cioccolata ragazzi? a me anche a me anche a Yoshi volentieri anche alla Winx e fateci sapere ragazzi qua sotto nei commenti al video qual è la vostra sorpresa delle uova di Pasqua Kinder preferita e se questo video vi è piaciuto mettete un pollicione iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video e scaricate l'app GBR per non perdere le notifiche ciao ciao Ciao!